Via ragazzi, persa anche esta. La fortuna è che Monza e Torino hanno perso e quindi in termini di classifica non cambia nulla, però insomma una partita che ti dico la verità per il carattere e anche per quello che si era visto in Coppa Italia sicuramente mi aspettavo qualcosina in più. Anche perché poi è vero nel secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo cominciato a tirare in porta, primo tempo zero tiri in porta, zero, ovo, ovo, tiri in porta, però nel secondo tempo ci sono passati quei 20 minuti di scellerata ordinaria follia dove abbiamo messo Barak, Kwame, prime punte, abbiamo tolto Belotti per Sottil, Io non so che sia saltato nei meccanismi logici in testa italiano per fare una cosa di genere, però spero perché Belotti stesse male perché altrimenti non lo togli. Quando poi si è messo Zola, che mamma mia lasciamo fare i brividi, però poi abbiamo messo una punta di peso, dietro gli abbiamo messo Beltran, abbiamo cominciato comunque a sistemare la Fiorentina in modo da dargli una parvenza di logica, Ecco che abbiamo cominciato veramente a stare vicino all'area di rigore, a creare qualcosina di più, un miracolo di Scesni sull'unico forse squillo di Nico Gonzalez che non mi piace, questo Nico Gonzalez non mi piace perché avrebbe i numeri, il talento per fare sicuramente tanto 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 di più E invece praticamente oggi si è limitato solo a quel tiro, bellissima la parata di Scesni, se no era gol, ci mancherebbe altro, però ha fatto un'azione in 90 minuti, ragazzi troppo poco. Per uno che è vero è stato due mesi fermo, quello ti pare ma ora è due mesi e è tornato, cioè dal numero 10 scusate alzo le mani, mi aspetto molto di più, tanto di più, così come da tanti altri. Arthur non si è capito ormai cosa sia successo, sicuramente sarà qualcosa legato al contratto, perché altrimenti non si spiega che non lo metta nemmeno un quarto d'ora, ma che preferisca Maxim Lopez, che anche Poerino ha fatto anche il suo, più di questo un fa, però ragazzi tra Maxim Lopez e Arthur c'è tre categorie, tre, tre. E poi ragazzi che vi dico, si è sbagliato tutto il primo tempo, il primo tempo gli hanno annullato tre gol a loro, due a Vlaovic che resta a Ovo, anche lui insieme al suo amico Chiesa, resta a Ovo contro di noi. Non so, aspetta, forse Chiesa uno l'aveva fatta a noi, vabbè, poco importa, non ci interessa, però che goduria, eh, a fa' così, a fa' così. E poi gli hanno detto qui, annullato, annullato, eh, va bene, goduria, l'unica goduria di stasera, perché poi insomma, purtroppo si è persa anche stasera. E nel secondo tempo si poteva fare sicuramente di più, le squadre all'Ager ormai sono così, quando poi sono in difficoltà si chiudono a Riccio, però ragazzi, alla fine, e c'hanno ragione loro, perché poi alla fine tre punti li porta a loro. Io con il possesso palla, 70%, mi ci sciacquo, francamente, perché ti porta a questo. Però, va bene, non facciamo catastrofismi, nel senso che dalla prossima settimana il calendario nero, tra virgolette, finisce. Si comincia a prendere squadre sicuramente molto più abbordabili anche in termini di classifica, anche se il Genoa, insomma, non è che sia tanto distante, però, ecco, sono squadre che possono essere alla nostra portata e possono farci ottenere qualche punto in più rispetto a queste affrontate fino ad oggi. E quindi si spera che nell'ultima parte di campionato si possa riprendere anche un po' di vigore. Poi ci sarà la ripresa della conference, anche quella, ragazzi, da non sbagliare, perché è apparecchiata, è apparecchiata fino alla finale, quindi di qui alla finale non c'è verso di sbagliarle. E poi, insomma, ci sarà il ritorno di Coppa Italia. Questa, che era una partita difficile, si sapeva, però, insomma, faceva piacere sicuramente giocare diversamente, soprattutto nel primo tempo. Comentate voi con la vostra visione, ci vediamo domani con le pagelle. Forza Viola e JM, ovviamente JM.